Cresce ormai costantemente da due settimane il numero dei positivi nella nostra regione. I dati non inducono per i prossimi giorni ad un grande ottimismo, ma è giusto non fare allarmismi. In molti però non si aspettavano una curva così in salita, soprattutto in pieno periodo estivo, anche se il virologo Paolo Fazzi non è dello stesso avviso e spiega il perché ai nostri microfoni. Allora, francamente io me l'aspettavo, perché ci sono state due variabili importanti che hanno remato tutte dalla stessa parte, quindi a favore dell'esplosione dei casi della virosi di Covid-19. La prima variabile è legata al fatto che adesso noi abbiamo come variante prevalente Omicron e ultimamente anche dei sottotipi 4 e 5 che sono estremamente trasmissibili. Quindi parliamo di un virus che secondo alcuni studi ha un R con 0 quasi simile a quello del morbillo, che ormai tutti sappiamo è il microorganismo che ha l'R con 0 più elevato, un R con 0 che va da 15 a 18. Dicono che questi Omicron 4 e 5 abbiano un R con 0, 12, 15, quindi molto molto infettante. Dall'altra diciamo l'atteggiamento non congruo da parte della cittadinanza, ovviamente che in parte è anche giustificata perché dopo due anni e mezzo di Covid evidentemente la gente si è stufata a portare la mascherina, che però purtroppo è l'unico presidio utile a garantirci dalla virosi e dalla circolazione del virus. Fazi chiarisce poi la problematica relativa alla quarta dose, considerando l'arrivo in autunno di un vaccino aggiornato con le nuove varianti di Omicron. Il fragile, l'anziano con delle comorbidità, deve fare la quarta dose, la deve fare perché questo virus, questa variante Omicron, è molto infettante, poco patogena, ma comunque può essere esattamente patogena in questi setting di soggetti e quindi la quarta dose va fatta. I soggetti magari non fragili, che magari non hanno delle comorbidità, teoricamente potrebbero aspettare anche l'autunno per fare il vaccino, considerando che sembra che verrà commercializzato per quella data un tipo di vaccino ridisegnato su Omicron.